Sera Borna ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, eccoci qua con il paggellone del Napoli della stagione 2019-2020 Partiamo subito, senza il tuo rindugi, partiamo dai portieri Meretto voto 6,5 E anche Ospina voto 6,5 Perché? Perché voglio dare a entrambi il 6,5? Perché comunque si sono alternati molte volte il portiere italiano e il portiere colombiano Entrambi hanno fatto prestazioni buone a prestazioni un po' sottotono Meretto ha fatto molto meglio all'andata Dove sono tre pochi a salvarsi insieme a Di Lorenzo e Milik e Mertens Beh, al ritorno invece è un po' calato tra qualche papera di troppo Tra qualche problema fisico Per questo il voto non è altissimo, do 6,5 Mentre Ospina voglio dargli lo stesso identico voto Perché Ospina all'andata praticamente ha giocato pochissimo Il ritorno invece con Gattuso ha fatto meglio, ha fatto molto meglio Però rispetto a Meretto non si è contraddistinto con belle parate Cioè, sia chiaro, alcune parate le ha fatte Però non è stato così decisivo come Meretto Vuoi perché a Meretto gli arrivavano tutti i tiri Quindi è ovvio che le parava Però ha fatto belle parate Mentre Ospina era giocato in un momento in cui Inaugri si stava riprendendo E quindi non gli sono arrivati tutti questi tiri Quindi Ospina di certo non si è contraddistinto per le grandi parate Ma di certo ha fatto bene perché comunque ha dimostrato sicurezza nelle uscite Con i piedi e anche tra i palli Anche se, come ho detto adesso, non ha fatto grandi parate La differenza di Meretto Mentre Carnetis non do il voto Diciamo, partiamo già a dire che Carnetis Goulam, Malquit e Llorente non do il voto Perché, anzi, Llorente lo do Malquit, Goulam e Carnetis non do il voto Perché non ce l'ho troppo poco Per i difensori di Goulibaly 5 Stagione molto sotto le aspettative per Goulibaly Mi aspettavo molto di più la difensore di Senegalese Che attualmente ha ancora i 3 migliori 3-4 al mondo Però quest'anno ha fatto male Tra ritardo di condizione legato alla Coppa d'Africa Che quindi è venuto tardi Quindi è stata tutta la preparazione estiva Vuoi avere qualche problema fisico maturato nel corso della stagione Vuoi anche per le pessime prestazioni difensive Il voto per questo è molto basso E' vero che nel post-lockdown si è ripreso Ma ciò non cancella la pessima stagione di Goulibaly Se con Ancelotti il pre-lockdown era da 4 Nel post-lockdown è da 6-6,5 Quindi più di 5 non posso dare Max Manolas è stato molto difficile agli voto DOS 6 Questo voto non solo rappresenta la stagione reale del Greco Ma è anche un invito affinché Manolas nella prossima stagione possa migliorare Perché Manolas all'inizio ha fatto un po' più di fatica Ha anche qualche problema fisico Però quando ha giocato non ha mai fatto prestazioni dell'udente A parte un po' nel finale di quest'anno Ma nel resto Manolas non ha fatto male Di certo non è stato il Manolas della Roma Però non ha fatto nemmeno schifo Cioè non è stato né Che ne so Il Goulibaly top E tantomeno Fidelef Però Manolas di certo può migliorare Non credo che Napoli Non credo che ritorneremo alla situazione Che si era creata quest'anno con Ancelotti Quindi dubito che Manolas farà schifo Anche la prossima stagione Però DOS 6 Non ha fatto cattive partite Anzi Maximo vince invece 7 La vera sorpresa di quest'anno Qualcosa si è entravisto anche l'anno scorso Ma soprattutto quest'anno In particolare un gattuso Maximo vince da un giocatore fondamentale Con lui Con i Balè e Manolas Giocano meglio Questi ultimi due insieme non si trovano Sono troppo simili Invece Maximo vince che fa da bastone Li aiuta Li aiuta tantissimo Veramente impetuoso Impetuoso e devastante La muraglia serba La chiamerei io Veramente devastante Non fa fassare nessuno Non ha sbagliato la partita Maximo vince quest'anno Anche prima del lockdown L'ha giocato bene Però è ovvio che ha sofferto La panchina Gli infortuni Però quando ha giocato Ha sempre fatto prestazioni eccezionali Non varrà mai di 7 milioni Però almeno 12-13 Non glielo impedisce nessuno Di fare i rigli Secondo me Luberto 4 È vero che ha giocato poco Ma le ha giocate le partite E ha fatto schifo L'anno scorso Decentemente È stata la sua stagione Da 6 Quest'anno ha fatto schifo Luberto Vente è stato disastroso La partita con la Frentina A San Paolo È stata l'emblema Di una Di una stagione penosa E che ha dimostrato Di non essere un gioco Da Napoli Il Napoli Lo deve prestare Secondo me Cedello sarebbe un po' Difficile Anche perché non ci ricaverebbe nulla Quindi prestarlo Magari Per fargli acquisire Minutaggio Esperenza Potrebbe anche starci Magari al Benevento Al Crotone Potrebbe giocare Molto di più Mentre Quando guardi Tezzini Gulao l'ha detto Non d'ho voto Marorui 6 e mezzo Anzi 6 e più 6 e più Non è stata una cattiva Stagione di Marorui Di certo non è stato Tre più negativi Ma nemmeno tre più positivi Buona stagione Ma non la migliore È un buon giocatore Ma non è il titolare Secondo me Alterna partite Buonissime Soprattutto contro le grandi Ma alterna Partite un po' Sottotono Partite un po' Insufficienti Marorui giuro Un po' altalenante Che in fase offensiva È forte In fase offensiva Alterna Buone prestazioni Soprattutto in Champions Ma prestazioni di merda Diciamo Questo Questo pagellone Riguarda principalmente Il campionato Potremmo in considerazione Anche le coppe Mentre Per quanto riguarda La fascia destra Esai 5 e mezzo Non voglio dare di meno Per quanto a me Se non piace Non do un voto altissimo Perché Esai Non ha fatto niente Di eccezionale È vero che Con Gattuso È migliorato Però Esai Fa il compitito Non gioca per far bene Ma gioca per non Prendere un brutto voto E le cazzate Ogni tanto Esai le commette Tra leggerezze difensive Tra incapacità Nel saper dribblare Nel saper crossare Nel sapersi sovrapporre Lungo la fascia Fanno sì Che Esai Non meriti un voto alto Ma nemmeno un voto così basso Perché alla fine Con Gattuso Comunque Ha giocato con costanza E prestazioni Sì costanti Diciamo Su un buon livello Mentre Malquitt Non dò voto Troppe poche partite Di Lorenzo 7 Stagione 8 Medi di Lorenzo Molti Derebbero anche 8-9 Ma non se lo mette Perché di Lorenzo Nell'ultima parte di stagione È un po' affaticato Ha fatto benissimo Fino a novembre Poi da quando ha giocato Terzino sinistro Il pensiero centrale Le sue prestazioni sono calate Da quando ha entrato Terzino destro Ha cominciato a giocare a calcio E finalmente Aveva un terzino destro Decente Non Isai Che sa crossare Sa spingere Sa difendere Manca soltanto Il dribbling Poi il resto di Lorenzo È perfetto Purtroppo Tra l'incapacità di Isai L'infortunio di Malquitt Di Lorenzo è costretto A giocare sempre Ed è un problema In Nauli Non deve intervenire Con un terzino destro Che avevamo già troppi Puntiamo su Di Lorenzo Ogni time Mettiamo Isai Malquitt Quando quest'ultimo Sarà rientrato Completamente Passiamo invece Centrocampisti Allora Fabian Ruiz Cinque e mezzo Non Diciamo che sono Un po' cattivo Con Fabian Ma Fabian È un giocatore Che Con delle grandi capacità E che Merita un voto Molto più alto Cioè Più che merita Può ottenere Un voto più alto Volendo Quest'anno è stato Un po' passivo Fabian Con Ancelotti È stato disastroso Da quattro Ma con Gattuso Ha fatto molto bene Da sette e mezzo Difatti È anche grazie a Fabiana Se siamo passati In finale di Coppa Italia Quindi Anzi Può per essere buona Cambio idea Dove sei più Non una brutta stagione Di Fabian Ruiz Veramente Una stagione Non eccelsa Ma nemmeno così brutta Considerata la parentesi Gattuso Però deve migliorare Rimarrà Napoli Sarà centro Del progetto Ma Lui deve migliorare È giovane E può migliorare Ancora tanto Ma non vale ancora 80 milioni Secondo me Almeno 50 Li vale Secondo me Zelinski Sei Stagione Non eccelsa Del polacco Ma nemmeno così Negativa Perché alla fine Lui gioca sempre E le sue partite Buone le fa Però è troppo altalenante Alterna prestazioni Scandalose Dove Perde tempo Col pallone Lo perde E Non è un giocatore Che sa giocare Davanti alla difesa Ma ci sono altre partite In cui Giocando più avanti È devastante Per capire Una buona visione di gioco Ha un buon dribbling È soprattutto un buon tiro da fuori È una buona velocità di pensiero Che rende un giocatore Di grande qualità Deve solo migliorare Nella testa Perché Zelinski è fortissimo Non gli manca niente Deve migliorare solo la testa È un po' di costanza Allan 5 Stagione evidente negativa Per Allan Questo è il segno Di come Allan Si è molto vicino alla partenza E mi dispiace Perché Allan È un gran giocatore Però Allan È da un bel po' di tempo Che è svogliato E la partita con la frentina Lo dimostra Di come sia un giocatore Che ormai È È solo un danno Terreno a Napoli Soprattutto dal punto di vista Dello spogliatoio Perché A livello tecnico Allan non si discute È un grandissimo giocatore Però questo anno Ha sbagliato troppo Perché Allan È un gioco Che può tranquillamente Essere tra i migliori Centrocampisti al mondo Per quanto riguarda Le sue caratteristiche Ma Quest'anno ha fatto schifo Non c'è nulla da dire Elmas 6 Diciamo in più Un sepoliti Perché alla fine Elmas Al primo anno Può starci Una stagione del giovane Non è stata brutta Anzi Elmas Considera che era una scommessa Un giovincello Di belle speranze Ha fatto anche molto bene È vero che Per me Elmas Non è una mezzala Per me Elmas È un trequartista Moderno Deve giocare più avanti Dei rischi È un trequartista classico Ma Elmas Ha dei guacchiannanzi Perché è più devastante In quella posizione Però come mezzala Non mi dispiaciuto Un giocatore che Sa ad allogare bene Con gli attaccanti Buon passaggio Buon dribbling E anche Tanta corsa Deve migliorare Sotto dal punto di vista Della finalizzazione Però Elmas è bravo Mi piace davvero tanto Infatti contro il Marsiglia Mi aveva incantato Nella miglia di precampionato Demme e Lobotka Voglio dargli Sette entrambi Sono stati Decisivi Perché con il loro arrivo Il Napoli ha svoltato Il centrocampo È migliorato Se non mette uno dei due Il centrocampo Il Napoli crolla Demme ha dimostrato Di avere grandi capacità Difensive e tattiche E Lobotka ha grandi capacità Di far ripartire l'azione Ottimo interditore E bravo anche costruttore Veramente Sono poche parole Per descrivere La svolta Che hanno dato Questi due giocatori Gattuso La prima cosa Che ha fatto E l'ha fatta La cosa migliore Nel momento giusto È quello di prendere Due centrocampisti Mediani Davanti alla difesa Ed è meno Lobotka Per quanto non sono Campioni Ma sono funzionati Che possono rendere Quanto un campione Passiamo invece Agli attaccanti Giori più offensivi Insigne Sette Stagione buona Per Insigne Non tanto per i gol E per gli assist Che non sono eccezionali Però Insigne Nelle prestazioni È andata sempre più Un crescendo Con Ancelotti È stato disastroso Sotto tutti i punti di vista Ma con Gattuso È stato un giocatore Devastante Da capitano Grande leader Trascinatore Ma soprattutto Da top player Lo è diventato Con Gattuso Giocatore Dalla grande rapidità Non velocità Ma dalla grande rapidità Dalla grande dribbling Dalla pericolosità in aria Dai cross Dalla qualche tiro Un singolo giocatore Pericoloso E soprattutto anche Dalla voglia di sacrificarsi Di ripartire In controviedi Di tornare indire A recuperare palle Di ripartire Per la sua squadra Un giocatore Che è migliorato Migliorato È difficile Un po' da dire Per un 29 euro Un giocatore Che è cresciuto Con Gattuso Sotto tanti aspetti Ecco Cosa che Sia con Zanri Che con Ancelotti Non si è visto mai Younes 5,5 Cioè Non è un ruolo Troppo basso Che alla fine Non è colpa sua Se ha giocato poco Però Non è che L'anno scorso Ha fatto molto meglio E mi aspettavo Qualcosina in più Ma qualcosina Ha giocato pochino Ma Diciamo che Non è che ha fatto Grandi cose Younes L'anno scorso Almeno Ha fatto qualche bella giocata Quest'anno si è visto poco Sarò proprio assente Le poche partite In cui ha giocato Mentre sulla destra Calegon 6,5 Con Ancelotti Ha giocato male Con Gattuso Invece è migliorato E Calegon Da ala È tornato il Calegon Nei tempi di Sarri Un giocatore fondamentale Peccato che Il suo addio Per fare una piccola Per il Calegon Grazie tutto a Giuse Ci ha regalato 7-8 anni immensi Ti auguro Una buona avventura In qualunque squadra Andrai Che sia in Italia Che sia in Spagna In Portogallo Eccetera E grazie per averci regalato Gioia e emozioni Veramente Un saluto E un bacio Da tutti i napolitani Per te Ci mancherai Prodo 6,5 Quindi ottimo assaggio Dello spagnolo Politano 6,5 anche lui Dopo un po' di difficoltà All'inizio Voglio premiarlo Perché è un giocatore Molto forte Non titolarissimo Ma che può alternarsi Se lui è Lozano Li vedrà bene Sulla destra Ad alternarsi Magari Politano All'inizio Lozano A partire in corso O viceversa Chi lo sa Però Politano Mi sta piacendo È un giocatore Che a me Sempre è piaciuto Però Annamo Si sta vedendo Quel che è capace Di fare Può migliorare Può migliorare Mi aspetto 20 gol Ma quei 6-7 gol Te li fa Politano È un giocatore Che a me piace È vero Che è un po' Un po' Ripetitivo Cioè È un giocatore Un po' Ripetitivo Sì Un po' Prevedibile Ma è un giocatore Che per quanto Sei prevedibile E sai come fermarlo Non ci riesci Perché è un giocatore Che sa fare Quella cosa Lozano 6 Molti darebbero 4 solo Per il prezzo Pagato Per una stranzata Perché Lozano Con le poche partite Che ha giocato Ha sempre fatto bene Non benissimo Ma ha fatto Buone prestazioni Se non intraviste Le sue qualità Di certo Lozano È stato anche Un po' Sfortunato Per il fatto Che ha avuto Ancelotti Che lo ha messo Punta Seconda punta Lo ha messo Esterno di centrocampio È ovvio Che Lozano Non rendesse Ma quando Vattuso L'ha messo Ala Nel suo ruolo Dopo che Si sono fatti pace Lozano È migliorato E si sono visti I risultati Deve migliorare Un po' Su certi aspetti Tipo che Sbaglia Coppico Sottoporta Si incamonisce Palla al piede Per un gioco Devastante Veloce Dribbling È veramente bravo Negli inserimenti Lozano A qualità pazzesca È il migliore esterno Che ha il Napoli Sulla destra Dopo il signo È il migliore Che ha il Napoli Contando l'addio Di Callecon E il Napoli Deve puntarci Non deve cercare Deve puntarci Anche l'anno prossimo Sarà la stagione Sarà la prova Del 9 Lozano Se farà schifo Una buona offerta Avrà venduto Altrimenti Deve rimanere Perché è un gioco Che a me piace E che può servire Al Napoli Ci serve un gioco Come lui Il Napoli Non ha giocatori Veloci E offensivi Come Lozano Sì ho detto Tutti gli esterni Mentre per quanto riguarda Le punte Mertens 6 e mezzo 6 e mezzo Buona stagione Di Mertens Non tanto per i gol Che non sono sali tantissimi Ha fatto in totale Sui 13 14 gol Tra campionato Champions E Coppa Italia Però Mertens Ha fatto benissimo Perché è un giocatore Che si è dimostrato Insieme a Insigne È un trascinatore Cioè è un giocatore Che È un uomo spogliatoio Serve in campo È un punto di riferimento Il gioco è che ti cambia la partita Il gioco è perfetto Mertens C'ha tutto Velocità Rapidità Sacrificio Dribbling Dribbling gli ultimi anni Un po' meno Poi tiro Grande inserimento Veramente Mertens Sta migliorando Vi stai occhi D'anno in anno Il gioco è fondamentale È il top player Che ci serve E che dipendiamo Molto da lui Milik 6 e mezzo Anche per lui Nonostante L'ultimo periodo Nero di Milik Ma nero nero Do 6 e mezzo Perché alla fine Milik Con Ancelotti È andato bene E se lo merita Il 6 e mezzo Se è bene Infatti in Champions Su qualche gol Mi sembra l'abbia fatto Non posso dargli di più Perché Milik Ha fatto schifo E non ha fatto Nemmeno così tanti gol Ma nemmeno un voto basso Perché comunque I gol li ha fatti Io Milik Lo scede Da prima istante E non ne sentire Affatto la mancanza Sebbene non giuro Che mi piace Ma sono giocatori Migliori Che in questo momento Possono essere più utili Di Milik Al Napoli Sebbene Milik Non è affatto scarso È un buonissimo giocatore Llorente 5 e mezzo Può dare anche Un voto più basso Però con Ancelotti Nelle prime partite Ha fatto bene Poi Ha sofferto anche lui Diciamo Il crollo Di tutta la squadra Se dal punto di vista Dei risultati Del gioco Che anche dal punto di vista Psicologico Ma con Gattuso Non l'ha mai visto Del campo Ovviamente è stato Trappanchina Tribuna Fuori dalla lista Dei convocati Proprio più fisici Llorente non ha più visto Del campo Cioè l'ultima partita È stata contro il Perugia Pensate voi Pensate voi Come Gattuso Tratta Llorente Non posso Voto più alto Perché comunque Ha giocato poche Non ha fatto benissimo Ma nemmeno un voto Così basso Perché Perché comunque Con Ancelotti Ha fatto bene Infatti in Champions League Siamo un gol importante Ha fatto vincere con Liverpool In campionato Due o tre partite Le ha segnate Quindi Llorente Si merita Il 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 Cinque e mezzo E niente Quest'olio di Fischer Qua è trovato un bel po' Però Non tanto Con il paginone Di ieri E niente Sera buona ragazzi E ciao Sera buona ragazzi